Allora comincio, buongiorno, vi saluto. La ceramica è il mio amore, come potete vedere, da quello che ho alle spalle, dalla biblioteca che ho alle spalle, che è di un amore storico per la maiolica italiana, proprio la maiolica rinascimentale, barocca, settecentesca, fino ad arrivare al novecento, che ha una potenza della ricerca assolutamente straordinaria e veramente proprio un work in progress molto dinamico, con un cambiamento, un arricchimento continuamente di sperimentazioni e di nuovi seducenti, proprio informazioni stilistiche. E allora comincio per farvi questa passeggiata con quello che è l'inizio, possiamo chiamarlo quasi dell'arte moderna in Italia, che è proprio l'Art Nouveau. L'Italia è sempre stata incredibilmente protagonista della ricerca della maiolica, della ceramica italiana, proprio con la maiolica rinascimentale. E poi, nel corso del seicento e del settecento, ha subito invece moltissimo l'influenza della ceramica islamica e della porcellana del centro Europa, sia francese che tedesca, e cercando continuamente di aggiornare quella che era la propria produzione, sia di maiolica che di porcellana, questi modelli stranieri. C'era continuamente questo dialogo, è stato veramente un'inondazione. E allora, diciamo, quello che è stato il prodotto di questo incredibile laboratorio dell'Ottocento è stata la famosa Richard Ginori, cioè una fabbrica milanese assolutamente industriale e molto moderna, sia nei motori, sia nelle macchine, che nei progetti, molto all'inglese, che era la fabbrica della Richard milanese, che riesce proprio negli ultimi anni dell'Ottocento e dei primi del Nove a raggiungere un livello di potenza industriale assolutamente straordinario e quindi, accordandosi con gli eredi della fabbrica Ginori, ad acquistare la Ginori, cioè i proprietari fabbrica Ginori negli ultimi, nell'ultimo decennio del Novecento, dell'Ottocento, non ce la facevano più a gestire una situazione così complessa, una sfida così internazionale, sempre la modernità. E allora, cosa succede? Che la Richard sposa la Ginori proprio nel 1896, insomma qualche anno prima del famoso 1900, e questo matrimonio fra la Richard e la Ginori provoca una reazione di disturbo nell'altro vaso che vediamo qua, che è il famoso Galileo Chini. Galileo Chini lavorava per doccia, proprio era uno degli artisti che collaboravano con l'azienda di Sesto Fiorentino, l'azienda toscana, la Ginori, la storica Ginori, si offendono talmente tanto all'idea che la Richard, che era una fabbrica proprio industriale, che faceva anche sanitari in Lombardia, potesse acquistare la Ginori, che Chini se ne va proprio sbattendo la porta. Però questo dimostra anche una qualità di tutto il Novecento, cioè grandi alleanze tra le industrie, che soddisfano un certo tipo di clientela molto moderna, ma i talenti individuali più artistici, o riescono a collaborare con queste grandi aziende nei loro laboratori, o fabbricano, cioè producono in delle piccole botteghe, gli atelier che avevano fatto per primo un francese, Armé Chaplet, quello di riprendere la bottega rinascimentale, l'atelier, dove fare sperimentazione, inventare modelli che poi sarebbero stati tradotti in un prodotto industriale. E questo è esattamente quello che fa Galileo Chini, proprio alla maniera di questo grande francese Nes Chaplet, che è uno dei grandi geniacci. E quindi nel far vedere la prima foto vi sto facendo due prodotti che sono tutti e due fatti attorno a Firenze, contemporaneamente, siamo arrivati al 1900, l'anno iniziale. Quello che vedete a sinistra è un biscuit, qui quindi è una porcellana non rivestita di vernice, quindi un biscuit viene chiamato, una porcellana da superficie opaca, modellata proprio sul modello, ispirandosi proprio alle porcellane di Sevres, e sarà questo grande modellatore che si chiamava Luigi Tazzini in questo momento, che è il direttore dell'azienda. E accanto avete invece un vaso di Galileo Chini, cioè quello che è un grande artista, un grande pittore anche proprio dell'Art Nouveau italiana, che fonda proprio molto vicino a Fiesole, sui colli che dominano Firenze, proprio una sua fabbrica indipendente, rifacendo proprio una bottega alla maniera rinascimentale, cioè una bottega familiare anche nelle insegne che usa come marchi, si ispira proprio a quei modelli. Il Rinascimento, in effetti l'Italia, ha raggiunto l'unità, però alle esposizioni universali, ha sempre come mercato, come immagine dominante, quella di essere la città del revival, del Rinascimento. E quindi, accanto a delle sperimentazioni che vengono premiate, proprio quelle di Chini e della Ricciarginori Fiorentina, alle esposizioni universali partecipano tutte le fabbriche satellite che sono fieri della loro storia e quindi continuano a portare uno storicismo, cioè una citazione storica di quelli che sono stati i periodi aurei della cultura italiana. E proprio nei questi primi anni del Novecento noi ci troviamo con dei critici d'arte che invece proprio spronano le fabbriche a innovarsi, a smetterla di essere solo, a continuare a ripetere quelli che sono dei modelli, però dal punto di vista sia tecnico, sia commerciale, la produzione, la continua produzione dei principi, dei capolavori rinascimentali, continua a essere viva. Quindi sul mercato non è un momento, diciamo, vincente dal punto di vista economico, sicuramente di questa tipologia, però ci sono degli appassionati collezionisti che continuano ad avere, ad adorare, diciamo proprio, la storia della loro città e quindi a continuare anche a collezionare quelli che sono dei pezzi di citazione storica che sono anche marcati. Poi tutto un argomento molto divertente è che queste aziende spesso erano anche delle aziende di falsi, cioè la crisi economica di queste città aveva fatto sì che chi era capace di riprodurre certe soluzioni tecniche come i lustri metallici che vi sto mostrando nel romano Piofabri, come Ginori, come Cantagalli, come altre fabbriche italiane, come Deruta, sono delle produzioni che sono capaci anche di fare dei falsi, quindi sul mercato ci sono anche questi prodotti paralleli che sono alcuni sono riconoscibili, alcuni marcati, altri ingannano ancora tutti. Ma se l'Italia ha questa importanza incredibile della tradizione e una delle capitali della ricerca del moderno è sicuramente la Francia, Parigi. Parigi ha questi canali diversi da un lato alla porcellana di Sevres che è il modello della raffinatezza della porcellana dell'invenzione dove nell'epoca Art Nouveau vengono chiamati a collaborare dei grandissimi artisti, prima Theodor Dek come citazionista storico e poi il genio assoluto Annet Chaplet che è quello che chiamerà anche Gauguin, cioè che darà lavoro anche a Gauguin. Gauguin non ci guadagnerà niente però ci proverà. Ma qui vi faccio vedere quella che è una produzione che adesso ha un altissimo valore che è quella che proprio passa nei primi anni del Novecento cioè l'avanguardia parigina che sono i Fauves, gli artisti Fauves, Matisse, Rueau, Maurice de Vlamic, Raul Duffi, cioè tutta la squadra dei pittori che espongono proprio a Sorodotone che sono rivoluzionari ma hanno come mercante di riferimento un Boise Volard che è un famosissimo che ha scritto famosissime memorie di un mercante di quadri, un mito e questo Volard lui collezionava opere d'arte, pardon, ceramiche anche antiche e la sua collezione personale era anche di ceramiche antiche quindi stimola un rapporto proprio amicale tra un ceramista che si chiama André Matè che era proprio nei borghi a nord di Parigi, lungo la Seine e i migliori artisti di questo gruppo. Quindi vi sto mostrando tre pezzi, la fiasca, se vedete, è in faience ed è adesso conservata al Pompidou, quindi al Museo d'Arte Moderna proprio statale di Parigi ed è di Georges Riaud, uno dei più raffinati pittori, più espressivi pittori Fauve. Sopra ce n'è uno che vi mostro, un piccolo piatto che è al Metropolitan Museum di New York perché questi pezzi hanno un'importanza storica veramente straordinaria che è questa donna nuda presa di scurto e sotto il più espressivo e anche qualche volta più drammatico di tutti i Fauve è Maurice de Vlamic di famiglia olandese ma parigino al cento per cento e ne ha fatti diversi, lui ha dipinto direttamente diversi pezzi e questi hanno una grandissima importanza perché in tutta l'arte noi vedremo che in tutta l'arte del novecento vedremo che dei pittori maestro grande sarà Picasso come vi farò vedere il lavoro, il dialogo tra la ceramica e i grandi artisti è molto importante cioè la ceramica ha questa fortuna di riuscire ad essere un materiale seducente e delle volte anche importante dal punto di vista economico. Se ci sono questo rapporto di questi attegli speciali queste botteghe quasi alla maniera ancora rinascimentale che dialogano con dei pittori con degli artisti in questo caso proprio guidati dal mercante però un'altra pagina fondamentale nella storia del novecento è il design è il rapporto fra artisti il disegno industriale e la produzione proprio sperimentale nelle prime industrie e qui per parlare di industria di industria moderna di design industriale moderno necessariamente andremo ma molto volentieri a parlare di Germania in questo caso perché siamo queste forme molto che vendono ancora oggi ancora oggi sono sul mercato nei negozi di alta qualità di design della porcellana quello che vedete in bianco e blu sulla sinistra è la super Wiener la Wiener Verstete cioè è la Wiener Porzellan Manufacture cioè la manufattura di porcellana di Vienna la designer in questo caso è una donna quindi Jutta Sica che sarà un geniaccio di questa organizzazione che si chiamano proprio le Wiener Verstete cioè i laboratori di lavoro artistico moderno cioè che proprio progettano questo dialogo con la produzione della porcellana ci sarà anche Meissen che darà degli incarichi a Robert Ribbersmith e ci sarà questa altissima qualità della porcellana questo design sia nella forma che nei decori estremamente moderno ma con delle con ancora rimanendo nel mondo del lusso di una porcellana estremamente raffinata quindi anche di altissimo valore anche Henry Van de Velde cioè i nomi dei fondatori del design moderno partecipano a inventare nuove formule sia proprio degli useful degli oggetti utili e che si prendono in mano senza difficoltà e dall'altra parte anche arricchendoli con questi materiali di altissimo pregio ma sempre in Germania insomma in Vienna diciamo nel mondo tedesco ma sempre in Germania a Weimar prima e poi a Dessau cioè a sud di Berlino ha origine quella che è questa scuola laboratorio culla dell'invenzione del design moderno che è il Bauhaus e nel Bauhaus nella prima stagione quella Weimar c'è questo geniale ceramista che si chiama Theodor Bergler e anche lui inventa una tipologia di design della di ceramica di cui è molto curato la produzione industriale in forme geometriche pure c'è questo filtro che le oggetti devono essere molto semplici riprendendo proprio quelli che erano i principi della fondazione del design cioè gli oggetti devono essere perfettamente utili devono essere di ottima qualità funzionale e devono essere anche apparentemente molto semplici e qui vedete questi oggetti quello sotto è una famosissima teiera è quasi l'emblema del design in ceramica del Bauhaus di questo Bergler e che vedete ha proprio delle forme geometriche pure c'è anche una qualità che il materiale qui è del grass quindi un materiale tradizionale tedesco e invece l'ansa riprende una forma e questo fatto di essere ornata con un po' di canna con del legno assottigliato riprende un modello giapponese cioè quella che è il japonismo che è una delle alimentazioni dell'eleganza nel design moderno aveva già avuto fortuna a Parigi ma il Bauhaus lo adotta con perfetta cura quelli sopra sono vedete delle forme ancora più semplici perché sono quelle forme proprio fatte per la casa moderna per questo progetto assoluto di fare la casa più semplice del mondo la casa moderna lo fanno questo laboratorio proprio a Dessau questa casa perfetta che doveva essere la prova per chiunque voleva saperlo che cos'era l'ideale del progetto del Bauhaus quindi delle stanze estremamente tutto quello che conosciamo nelle nostre cucine i pensili piuttosto che il lavandino dentro nella superficie che è d'appoggio tutto questi giochi della funzionalità di forma e funzione che si sposano insieme li troviamo anche manifestati in questa in questi oggetti estremamente semplici geometrici ma di una potenza di funzione assoluta si dice sempre che il design in Italia è arrivato con Gio Ponti e Gio Ponti è proprio quello che riesce a fondere le due lezioni da un lato tutta l'eleganza e la raffinatezza di Sevres della ricercatezza materica della ricercatezza anche dal punto di vista proprio estetico Ponti sapete milanese era di una famiglia molto benestante molto molto industriale aveva quindi una conoscenza aveva già viaggiato molto visto molti musei fa liceo classico quindi è un uomo che ha una cultura di base molto raffinata ha a casa collezioni di porcellane ok e studia nei musei perché quest'opera le forme sono presi da un famosissimo vaso etrusco che si chiama la cista Figuroni che a Villa Giulia a Roma dove si vede che e proprio sono riprese le formule decorative che lui riesce in maniera geniale dopo aver fatto architettura anzi ingegneria al Politecnico di Milano riesce a tradurle in forme molto moderne facendo collaborare con lui in maniera straordinaria mille persone cioè la bravura di Ponti non è solo la sua genialità nell'invenzione che si vede anche nei suoi quadernetti che ho avuto il piacere di vedere dagli eredi ma anche di conoscere la maniera in cui lui riesce a far sì che la migliore pittrice che si chiamava Elena Diana della manifattura della porcellana Ginori a Sesto Fiorentino esegue con delicatezza quelle che sono le sue indicazioni che dà mandando foglietti con appunti mandando disegni mandando piccole foglie con sopra i dipinti riesce ad avere un dialogo con questi artisti esecutori raffinatissimi prezioso e quindi inventa proprio delle formule geniali il il vaso che vi faccio vedere è in porcellana è stato prodotto vi ho già detto a Firenze ma è stato esposto ve lo mostro un attimo poi torno qui in questa è la cartolina insomma è una fotografia della famosissima mostra della Biennale di Monza del 1923 dove proprio Gio Ponti si presenta per la prima volta come direttore artistico della Richard Ginori tra l'altro lui era molto giovane non aveva fatto grandi lavori prima ma posso dire quasi è un conoscente di famiglia l'amministratore delegato della Richard Ginori che evidentemente seduto dei suoi disegni ne capisce la bravura e la cultura ceramica e quindi gli dà questo incarico di essere lui il governatore del nuovo stile della Richard Ginori e lui lo fa con una potenza sorprendente perché in questa prima mostra del 23 già si vede che ha inventato lo stile nuovo a cui poi rimarrà fedele vi mostro anche questa scultura che è al castello sforzesco che è stata realizzata su disegno di Gio Ponti da un grande modellatore milanese che si chiamava Giovanni Supino e anche in fondo riprende dei busti rinascimentali dei busti molto eleganti che facevano gli scultori fiorentini sia in marmo che in maiolica e però riesce a renderlo incredibilmente moderno incredibilmente fresco proprio sembra una nuova invenzione questa era la capacità di Ponti lo riconosce un signore a cui Milano deve molto che si chiamava Guido Marangoni che era il conservatore al castello sforzesco ed è lui che organizza le biennali di Monza le inventa proprio e quello che è interessante è che Marangoni oltre a organizzare la mostra dopo ne pubblica dei libri riprendendo tutte le fotografie ma soprattutto riesce a far sì che il castello sforzesco compra una scelta che decide assolutamente lui dei best pieces come si dice dei pezzi migliori della mostra quindi le collezioni del castello sforzesco hanno adesso esposto molti di questi oggetti che sono stati comprati alle prime biennali monzesi che si susseguono fino al 1930 quando viene inventato la triennale a Milano ed è sempre Gio Ponti che diventa addirittura il direttore artistico dopo Marangoni Marangoni lo adotta praticamente quindi Gio Ponti diventerà come sapete non solo il direttore artistico della manifattura dove riesce continuamente a organizzare manifestazioni a partecipare alle più importanti manifestazioni anche a Parigi nel 1923 c'è questa famosa esposizione des arts decoratifs dell'arte decorativa il nucleo del museo des arts decoratifs che si vede adesso in Rue de Rivoli e quello che è straordinario è che Ponti vince la medaglia d'oro cioè vince il maggior premio fa lì un'esposizione assolutamente straordinaria e quello che è anche fantastico lui in come riusciva a chiamare a collaborare nelle sue aziende lo farà tutta la vita anche quando diventerà il direttore della rivista Domus anche quando diventerà il celeberimo architetto insomma lascerà la direzione della manifattura a questo che era stato il suo assistant questo giovanissimo Giovanni Gariboldi che diventa per un certo periodo una specie di altra mano di Gioponti e in cui in certe opere è veramente difficile capire anche quelle che sono disegnate da Gioponti realizzate da Gariboldi Gariboldi però è un uomo che è capace e quindi Gioponti lo capisce e a un certo punto gli affida la direzione della fabbrica quindi la fabbrica Gioponti fino agli anni cinquanta continua ad essere lui a dirigere l'azienda e la saprà dirigere sempre in dialogo con Gioponti perché Gioponti dirigendo Domus pubblica tutto quello che fa Richard G. Norris a pagine intere su Domus dandogli quindi una sorta di benedizione facendo una corrispondenza a bigliettini e grandi lettere con il suo erede insomma essendo sempre diventa l'arbitro del gusto moderno italiano quindi assolutamente Giovanni Gariboldi ha sempre una devozione ok però indubbiamente Gariboldi è più lui a dominare è ceramista di cultura quindi è più lui a dominare direttamente la tecnica e quindi riesce a produrre degli oggetti raffinatissimi con questa motivia sottile rilievo spero che lo vedete nella foto che è quello che in realtà gli inglesi avevano anzi i francesi in esilio in Inghilterra avevano inventato che si chiama il passio or pat cioè una tecnica di sottilissimo rilievo quasi come se fosse un broccato un lavoro di tessitura appena percettibile al tocco e questi con delle parti lucide delle parti opache quindi insomma un governo della tecnica ceramica assolutamente straordinaria e quindi la Rischarginori passa fino alla guerra insomma al 45 al 40 passa un periodo veramente aureo vi faccio vedere anche un vaso che è assolutamente delicatissimo come il carattere di un grande artista come Fausto Melotti Fausto Melotti milanese d'adozione di Rovereto però lui è proprio uno scultore e infatti lui si offenderà e scriverà sempre che lui non vuole essere chiamato ceramista però nei materiali che lui utilizza nelle sue ricerche estetiche ci sono c'è del metallo no? ci sono c'è della scultura in materiale assolutamente bianco modellato in gesso e ci sono anche tante produzioni di terracotta smaltata e Ponti è un suo amico quindi Ponti gli dà degli incarichi sia in tutte le architetture che fa ci sono delle decorazioni parietali che sono di Ponti di Melotti e Melotti ha proprio può permettersi di fare la sua ricerca più libera proprio perché ha questa sicurezza di avere questa alimentazione economica grazie agli incarichi che gli vengono offerti proprio da Ponti in tutte le sue case anche quando le fa in Brasile c'è la collaborazione di Melotti nella decorazione ceramica Melotti però fa anche moltissime opere di una ricercatezza e una sintesi quasi essenziale estremamente raffinata e quindi naturalmente parlandovi di Melotti lo vediamo da un punto di vista più decoratore al servizio di Gio Ponti ma anche moltissimo come grande scultore della ceramica come Lucio Fontana di cui vi parlerò il rapporto degli artisti con la ceramica è anche permesso dalla magnifica Albissola Albissola sapete questo borgo che è accanto a Savona appena prima di Savona venendo da Genova è un luogo splendido in riva al mare è abbastanza ripido ma lì ancora oggi ci sono molte ormai piccole fabbriche di ceramica la stradina diciamo quella regionale ha proprio vetrine che espongono ceramica da tutte le parti perché ha avuto nella sua tradizione quello di essere con la città di Savona il luogo dove si è produta tutta la ceramica per Genova nel Cinquecento si produceva Genova dal Seicento in poi tutte le fornaci vengono trasferite a Savona e ad Albissola quindi Albissola ci sono delle fabbriche storiche all'inizio del Novecento c'era questa fabbrica che si chiamava la fabbrica Mazzotti e della famiglia Mazzotti alla famiglia Mazzotti apparteneva questo Tullio Tullio che verrà che era un giovane di quella famiglia che studia all'Accademia di Torino Milano in questo momento forse Milano e che è un artista estremamente moderno quindi lui viene in contatto a Milano con tutta la cultura futurista viene a contatto con Marinetti e Marinetti lo adotta e quindi nelle mostre futuriste espone anche Tullio e Tullio si fa chiamare Tullio dal Bissola e Tullio è molto importante per tantissime ragioni primo perché è uno che ha diciamo conosce molto bene la produzione citazionista cioè la sua fabbrica la fabbrica di famiglia è una fabbrica che produce molto bene dei pezzi tradizionali questa zona ha un'argilla particolare particolarmente fine e quindi ha sempre avuto una declinazione proprio a pareti molto sottili anche di vasi cioè ha una cultura della ceramica veramente raffinata che quindi lui conosce perfettamente e lui ha la bellezza di essere un artista estremamente moderno ma ha anche una grandissima cultura della ceramica antica tanto che lui pubblica dei libri come storico della ceramica e ci sono anche tutti i suoi appunti anche alla Biblioteca Nazionale di Roma cioè i suoi quaderni di appunti perché lui quello che vuole è essere moderno essere avanguardia ma che non ci sia la damnazio memoria e dello stile antico quindi è uno di quelli che valorizza moltissimo la ceramica popolare che nella ceramica popolare vede non una ceramica brutta ma delle formule artistiche che sono semplici dirette che sono i presepi che sono le piccole icone sacre scene delle scene della vita di Cristo cristi crocifissi degli oggetti che troviamo simili anche in Piemonte meno in Lombardia ma molto in Veneto cioè troviamo delle zone in cui la ceramica popolare ottocentesca continua e gli artisti più moderni più d'avanguardia ne coltivano sia proprio la raccolta la conoscenza e sia una traduzione nel moderno come vedremo allora qui vi faccio vedere un pezzo che è conservato al museo di Faenza perché ovviamente uno dei musei più belli d'Italia per la ceramica è Faenza una è la nostra fortuna il castello Sforzesco dove sono consulente storica ormai perché il catalogo l'ho curato vent'anni fa ma continua ad essere in rapporto amicale e anche lì ho studiato ultimamente ho fatto tutto l'inventariazione e la catalogazione dei frammenti che erano rimasti nei depositi ma insomma ci sono dei pezzi molto importanti di Tullio d'Albissola due che sono stati catalogati anni fa ma anche al museo di Faenza dove è ovvio andare perché è ovvio che lì si vedono molte opere anche di altissima importanza nella storia dell'arte come per esempio la ceramica di Lucio Fontana ecco la ceramica di Lucio Fontana noi la vediamo al museo del novecento a Milano non è tenuta al castello Sforzesco ma la ceramica di Lucio Fontana è ancora nata grazie all'amicizia con Tullio d'Albissola nelle gallerie d'arte soprattutto la galleria Pesaro a Milano e quindi questi due hanno fatto amicizia Lucio Fontana è andato ad Albissola Albissola ha prodotto degli oggetti artistici con questo materiale storico e con una grandissima applicando quello che era il suo concetto più sperimentale proprio di concetto spaziale e facendo degli oggetti assolutamente strepitosi e lì vi assicuro che la più grande collezione attualmente è in Svizzera ed è stata tutta esposta anni fa al Paletto Chio a Parigi ho avuto la fortuna di essere lì quella volta vi assicuro un'enciclopedia della scultura ceramica di Fontana assolutamente un laboratorio modernissimo ecco una delle cose più interessanti della ceramica del novecento è che ci troviamo dei protagonisti assoluti dei celeberrimi artisti di primissima insomma di fama internazionale di altissima statura di ricerca assoluta nei concetti dell'arte contemporanea e che usano moltissimo la ceramica quello più celebre per questo salto di libertà come sapete è Pablo Picasso Pablo Picasso dopo la seconda guerra mondiale un po' stufo di essere troppo celebre e sempre visitato da tutti nel suo studio di Parigi nel suo atelier di Parigi decide di lasciare Parigi e sceglie di andare a vivere in Provence nel sud della Francia e vicino alla sua residenza una delle sue abitazioni c'è questo borgo di Valoris dove per combinazione un giorno entra quasi per capriccio in questo così per fare un divertimento di un istante entra in questa bottega e modella un famoso gufo che stiamo vedendo e questo proprio un istante poi lo molla lì si sa che torna settimane dopo vede che il gufo è stato cotto ed esposto e comincia questo dialogo proprio affettuoso con questi ceramisti locali e sappiamo che per sette anni si dedica tanto alla pittura quanto alla ceramica cioè diventa un suo laboratorio personale e appassionato e proprio meravigliosa la maniera in cui lui la sua creazione la sua ricerca è sempre una specie di gioco dell'immaginazione e sempre in dialogo con quella che è la storia antica le citazioni greche si trova dentro sempre tutte quelle che sono delle suggestioni che lui coglie dall'arte anche degli altri quando incontra Matisse che è un suo amico un po' a periodi up and down però ottimo conoscente quando Matisse va via nelle sue opere vediamo l'eco Matisse insomma ha sempre tutto quello che vede assorbe quindi ha questo dialogo fantastico con la Maiolica e anche gli artisti quindi di tutto il mondo vengono vanno a lavorare in ceramica a Provenza tutti i villaggi attorno a Valoris tutta la Provenza esplode l'importanza degli atelier di ricerca e così anche a Savona noi vedremo che a Savona ed Albissola molti artisti stranieri vengono a lavorare tra diciamo Savona tra la cultura Albissola Savona e la cultura di Valoris c'è una specie di canale insomma di dialogo amicale e di piacere di fare una ricerca di essere grandi artisti del moderno che stanno facendo una ricerca in parallelo ma uno dei geni della ceramica europea del novecento è questo straordinario sperimentatore inglese che si chiama Bernard Leach che è proprio coetaneo di Picasso ma insomma ha sei anni di differenza Picasso è nato nell'ottantuno Bernard Leach nel 1881 e lui è nato nel 1886 però è una persona molto diversa nel senso che è un è nato in Giappone da madre tutti inglesi però persone che erano nate e cresciute il padre in Cina e la madre in Giappone quindi è uno un figlio dell'imperialismo potremmo dire inglese le sue studi li va a fare in Inghilterra e si dimostra molto fine disegnatore torna in Giappone proprio per il disegno e lì si innamora della porcellana ed è assolutamente meraviglioso vedere quello che è il suo laboratorio della ricerca artistica ceramica dove il suo rapporto con la cultura giapponese avrà un'importanza quasi maggiore del giapponismo dell'ottocento cioè ha una raffinatezza assolutamente straordinaria quindi vi sto mostrando qua una bellissima bottiglia fatta proprio da Bernard Leach che è capace di creare degli oggetti che sembrano degli oggetti proprio arcaici degli oggetti potenti in cui Bernard Leach studia con estrema attenzione una specie di ricerca innovativa sulla cottura sulle i tipi di cottura addirittura vedete che qui c'è questo vedete che è Bernard Leach questa è una sorta di replica imitativa di una produzione popolare inglese che lui traduce attraverso questo filtro della tecnica che è la ricerca giapponese se si va a Tokyo nei dintorni di Tokyo c'è questo famosissimo museo dedicato a Bernard Leach e a un suo caro amico che si chiamava Omada che è un ceramista giapponese insieme fanno proprio il laboratorio Omada vuole tenere se riuscite a vedermi dietro lì ce ne ho i mitici libri di Omada perché sono dei vangeli della cultura giapponese sono la ricerca tradizionale fatta con un rituale veramente sacro e Omada lo insegna a Leach Leach torna in Europa e va a vivere in un posto che consiglio a tutti perché è uno dei posti più belli del mondo secondo me che è Sant'Ives in Cornovaglia dove c'è il laboratorio di Bernard Leach dove c'è questo luogo dove proprio pensate che c'è un premio ogni anno che viene dato a dei giovani talentuosi hanno l'uso per qualche settimana del laboratorio di Bernard Leach vi assicuro un posto assolutamente splendido con questo laboratorio delle arti della ceramica in tutti i codici possibili allora vi presento qua una splendida allieva di Leach che si chiamava Lucy Rie che era un'austriaca di famiglia di origine che però durante ebrea ebreissima che durante lo dico anche senza nessun problema era una donna molto di grande educazione internazionale di origine tedesca come molti tedeschi che scappano per il nazismo anche subodorandolo in certi altri stati come in Inghilterra come in America si sentono liberi si liberano di questa di questa proibizione nel loro vivere ebraico quindi farà la Lucy Rie sarà famosissima a Londra nel senso che è considerata una delle più raffinate sperimentatrici sui materiali le forme proprio tradizionali giapponesi certi effetti di certe ricercatezze di certi toni cromatici e di questi lustri metallici che vengono giù a pioggia che sono i capolavori di Lucy Rie ci sono dei settori di Lucy Rie nel Victorian Albert Museum ok è un guru della del come degli eredi della generazione di Bernard Leach un discorso un po' simile sul lustro la raffinatezza la cultura tradizionale italiana e lo posso far vedere con questo bellissimo Pietro Melandri questa scultura che apparteneva a una grande studiosa che era sua amica che era la Viscontino Ugolini questo è andato all'asta un paio d'anni fa questa raffinatezza sia nella ciotola che nell'oggetto si vede una certa poesia nell'arte un'eleganza molto raffinata molto governata veramente di oggetti piccoli ed estremamente poetici quasi come questo piccola tazza fa pensare un po' a Raku cioè a questa eleganza questa tradizione molto ritmata molto controllata che si vede in questi pezzi vi mostro invece quella che è la ceramica più potente sempre Pianezola Pompeo Pianezola che ho avuto il grande piacere di conoscere e di lavorare per lui presentare qualche sua mostra a Bassano del Grappa Pompeo era proprio un artista che amava moltissimo dare questo senso della potenza della materia come se fosse una materia che aveva in sé il passato aveva in sé una potenza straordinaria simbolica di quella che era proprio la parte proprio più ancestrale della materiale cioè di essere un po' la terra antica di essere la materia più antica del mondo di essere una materia che possiede nelle espressioni che gli si riesce a dare attraverso il lavoro plastico ma anche attraverso lui lavorava moltissimo sugli effetti alla giapponese dei fumi dei graffi delle rotture e quindi ho avuto veramente il piacere di passare nelle giornate nel suo laboratorio e di vedere proprio questa voglia di dare una potenza espressiva assoluta ai suoi prodotti alla sua materia ed era un assoluto piacere vedere le sue forme prendere energia proprio plastica ma anche storica tanto che lui era molto amato in Giappone i giapponesi lo invitavano spesso alle esposizioni e lui nella sua abitazione aveva quella che mostrava con grande orgoglio che era la sua collezione di oggetti giapponesi accanto vi mostro un altro grandissimo artista che è molto moderno che usa una forza proprio un'energia nel creare queste pieghe elastiche nei materiali che è Carlo Zauli e Carlo Zauli si riesce a visitare la sua casa il suo laboratorio a Faenza è diventato un museo quindi si riesce veramente a vedere quella che tutte quelle che sono i materiali gli strumenti e tutte quelle che sono i vari passaggi della sua ricerca storica che naturalmente ha avuto a Faenza nel museo di Faenza nella mostra annuale dei maestri contemporanei che ha inventato questa festa di questo premio Faenza che viene dato tutti gli anni a settembre e una mostra che viene fatta con le opere che vengono accolte e poi valutate da una commissione ha sempre stato inventato da Giancarlo Boiani ed ha dato questa potenza moderna al museo il museo sapete che ormai è un sito unesco è considerato assolutamente la più importante prova della cultura ceramica in Italia grazie a Ballardini che ha fatto un lavoro veramente splendido poi ad altri studiosi ma insomma il novecento si deve tutto a Boiani Boiani ha lavorato moltissimo sia in esposizioni che nel frequentare in pubblicazioni che nel frequentare gli artisti e insomma è stato un organizzatore di convegni di pubblicità insomma è stato uno che ha reso molto vivo il museo e quelli che lo fanno adesso stanno seguendo la sua lezione anche il rapporto comunari cioè aveva proprio una la voglia di creare un museo moderno un museo forte e Zauli proprio è stato uno di quelli che diverse volte ha vinto il premio Faenza anche Pianezola l'ha vinto a dire la verità non dimentico che accanto alla produzione artistica potente c'è sempre il dialogo con l'industria e indubbiamente tra gli designer più brillanti che abbiamo avuto in Italia che in questo momento sta a vivenza il poverino non c'è più Ettore Sozza si è morto sarà morto dieci anni fa ha avuto questo periodo assolutamente fantastico nella valutazione del suo design così un po' pop che era lo stile Memphis chiamato con altri architetti aveva inventato questo gioco in cui c'era moltissimo citazionismo colto moltissimo gioco quasi di sfida dell'assurdo di sfida nella fantasia qualcosa era proprio l'oggetto gioco infantile che veniva magnificato seguendo anche delle cose che Munari amava nella sua sperimentazione del design moderno e quindi questa gioia questa qualità di rompente ha avuto in Ettore Sozza in Alessandro Mandini un incredibile successo planetario e lo ha ancora oggi cioè ancora oggi andando nei grandi musei del design del mondo i pezzi di Sozza sono ancora icone del novecento icone del secondo novecento di questa joie de vivre possiamo chiamarla la maniera di giocare con le forme di creare degli effetti che sono che sono veramente molto divertenti poi ne conosciamo tutte le formule Alessi ne conosciamo tutte le formule anche in metallo forse più di quelle in ceramica ma ha avuto sicuramente una una un successo una vivacità produttiva assolutamente straordinaria anche questi versatori che sono quasi assurdi no? questo questo gioco dell'assurdo un po' pop un po' un po' rock che hanno avuto incredibile fortuna e invece vi faccio vedere quelle che sono degli oggetti dei giovani che adesso hanno più fortuna cioè adesso se si deve dire quali sono i ceramisti italiani più vincenti sicuramente sono Bertozzi e Casoni questi due non più giovani perché adesso sono del cinquantasette cinquantotto di quegli anni e sono faentini e hanno hanno studiato anche all'Accademia di Bologna dove c'è anche il Dams come sapete quindi una cultura molto libera una cura alla tecnica assolutamente straordinaria e un gioco che è quasi rock perché insomma ci sono delle metallizzazioni degli effetti di cose rotte no? degli effetti di tutti oggetti della vita moderna sposati insieme magari a delle rappresentazioni di forme animali di teschi insomma di cose che vogliono essere delle manifestazioni di perfetta conoscenza di quella che è la vita contemporanea però vi mostro un oggetto che proprio è stato adesso è in una mostra americana che è Bertozzi e Casoni che citano Morandi Morandi è bolognese sapete era bolognese un poeta della pittura che ha avuto una magnifica fortuna hanno anche prodotto le ho viste ieri a Brera che hanno prodotto tutte le forme dei vasi di Morandi in modo che ognuno per arredo si può rifare una natura morta di Morandi con dei pezzi dei prodotti industriali ma loro fanno come vedete una citazione diretta da un piccolo dipinto di Morandi con del 1952 questi fiori e loro lo riprendono proprio come una citazione poetica la ceramica è anche sia prodotto che oggetto oggetto utilizzato in maniera provocante da molti artisti contemporanei qui a Tom scusate nella foto più piccola che vi metto qua forse non volevo ingrandirvela in questa si vede un ceramista un artista olandese che si chiama Buche de Vries perdonatemi se qui il nome non lo dico magari perfetto che prende dei vasi antichi di Maiolica italiana del Cinquecento li rompe li mette dentro in un contenitore di vetro e quello diventa un'opera d'arte che capite a me fa un po' soffrire ma insomma questo senso del del graffiante insomma della della crisi no della crisi del del moderno nella cultura antica però fa anche come vedete un paragone con quelle che sono i cretti di Burri quindi un'altra rappresentazione Burri vi ricordate che bruciava i materiali creava questi strappi queste crettature quindi vediamo che l'uso di questa sorta di grido di quelle che sono gli strappi della materia naturale come fa Burri lui lo lo cita in questi vasi rompendoli è stata una sua mostra anche a Mondovì l'anno scorso due anni fa cioè è un artista potente ma quello che è più per me sofferenza nel senso di l'amare la terra antica il più celebre il celeberrimo Edmund De Waal ma pardon sto sbagliando qua è Ai Weiwei questo qua è il celeberrimo artista cinese che sta facendo queste opere estremamente con la stessa violenza come vedete queste tre foto sono delle degli anni 80 cioè lui molto giovane era cinese e che prende questo vaso antico e lo fa cadere lo fa proprio rompere in pezzi però nelle mostre che vengono fatte voi vedete dei grandi vasi cinesi dei grandi vasi che vengono trattati in una maniera abbastanza impegnativa per non dire sofferente che è proprio questa con questi grandissimi orci colorati presi nelle tombe cinesi antiche e completamente coperti di colore le ho visti anche in mostra a Bologna con Ai Weiwei sarà tre anni fa era tre anni a Palazzo Strozzi c'era una mostra tutta dedicata dai Weiwei vedendo tutti i vasi antichi colorati con i colori moderni è un po' un senso proprio di uno schiaffo proprio a questi materiali storici invece quello che proprio è un adorato per quello che è la sua cultura e l'importanza della sua cultura è quello che adesso è un mito cioè Edmund de Waal Edmund de Waal lo conosciamo tutti per queste esposizioni che fa al Victorian Albert Museum ai musei olandesi ovunque si vada Edmund de Waal ha raggiunto chiara fama lì espone questi è facile trovare le foto del suo laboratorio questi ripiani coperti di queste tazze cilindriche di questi piattini che apparentemente molto semplici che sono replicati con assoluta perfezione Edmund de Waal prima di diventare celebre era un uomo di nobilissime origini perché lui è un originario di una delle grandi famiglie ebraiche che sono diventate estremamente colte e raffinate a Londra e lui ha cominciato a studiare la ceramica proprio osservando quelli che abbiamo appena citato il più bel libro mai scritto su Bernard Leach l'ha scritto Edmund de Waal prima di diventare celebre come ceramista lui aveva studiato con estrema cura tutto il percorso che abbiamo fatto finora ok si vede proprio il Bernard Leach meravigliosamente citato in questa sua tazza nella ricerca della perfezione europea che si fonde con la perfezione orientale anche molto celebrata dal suo famosissimo libro un'eredità di avorio e ambra che scrive lui e questa è la sua incredibile l'esempio della sua incredibile raccorta di nezuke di piccolissimi oggetti di avorio soprattutto di ambra che servivano per essere appesi alle cinture delle vesti dei giapponesi più prestigiosi più raffinati e insomma è un libro meraviglioso non so se l'avete già letto ma insomma un romanzo di quelli che sono rimasti che hanno reso celeberrimo Edmund De Waal il suo nome a livello mondiale e questa sua celebrità conquistata con questo suo scritto si è riflessa moltissimo nel mercato della sua produzione e nelle esposizioni tutte le migliori gallerie del mondo cercano di avere l'onore di avere un'esposizione di Edmund De Waal perché se guardate su internet Edmund De Waal Exhibition trovate veramente delle formule magnifiche nei più bei musei del mondo dei percorsi estremamente raffinati facendovi vedere un percorso che adesso è aperto mi è arrivata ieri l'invito no ieri o l'altro ieri insomma ve lo metto è di una bravissima artista italiana milanese Rosanna Bianchi Piccoli che mi ha mandato questa cartolina perché adesso sta facendo una mostra a Palazzo Tè nelle scuderie di Palazzo Tè a Mantova quindi le mostre sono ancora molto le mostre di questi grandi scultori sono molto vive a Milano c'è anche una mostra intriennale che è stata inaugurata una settimana fa nella giornata di presentazione di questa mostra si faceva notare sempre come queste ricerche artistiche che hanno tutte le diverse declinazioni ormai hanno anche dei giovani molto brillanti provenienti da Faenza da Savona da Nove da Milano da Venezia che sanno sviluppare delle nuove forme con delle formule molto colte e quindi la vita della ceramica moderna continua a essere forte e anche di grande successo perché avere una mostra intriennale partecipare a una mostra intriennale è un premio di altissima qualità di altissima statura ho finito la mia passeggiata naturalmente sono una cinquantina le grandi persone di cui vi posso parlare durante le lezioni sempre giocando sul fatto che ognuno di loro è quasi il testimone di massima statura di un lavoro di tanti altri che ci sono insieme e naturalmente Faenza e Bassano ci aspettano e anche la Liguria insomma sono i tre posti dove si sono sempre attivi grandissimi artisti e anche delle bellissime proposte a Faenza vi ricordo che a settembre sperando che tutto vada liscio dovrebbe esserci ancora una di quelle mostre che vengono fatte nei primissimi giorni di settembre in cui c'è il raduno mondiale di tutti gli innamorati della ceramica moderna di ricerca moderna e di solito si fanno degli incontri molto molto interessanti molto belli quindi naturalmente la lezione si fa speriamo da vicino ma anche la cultura obbliga a viaggiare va bene bene grazie Raffaella grazie a tutti di aver partecipato c'è una una domanda forse una mano alzata vediamo chi è Silvia no scusi era soltanto volevo complimentarmi non era una domanda bene la ringraziamo una lezione molto molto interessante per una profana come me mi ha dato molti stimoli bene bene grazie prego grazie a voi grazie a tutti grazie a tutti